Sono sorpreso da questa automobile che ho noleggiato la scorsa settimana e che oggi ho riportato in concessionaria per il termine del noleggio. Sto pensando di prenderne una uguale perché potrebbe servirmi. Ci ho fatto diverse ore di guida ma non mi sono mai sentito stanco perché è adatta ai viaggi lunghi. Inoltre non mi sono dovuto fermare troppe volte a fare rifornimento nelle aree di servizio. Infatti con pochi litri di benzina sono riuscito a guidare per un centinaio di chilometri risparmiando parecchio. All'inizio ho avuto problemi con le porte ma non è stato un guasto. Il responsabile mi ha detto che le chiavi sono particolari. Quando l'ho guidato mi è sembrato un mezzo veloce ma sicuro e stabile soprattutto sulle autostrade ma anche nelle curve e in situazioni di maltempo dove non ho mai avuto problemi. Per esempio non mi fermo quando c'è il divieto di sosta e non sorpasso le altre auto quando c'è il divieto di sorpasso. Non supero i limiti di velocità sulle strade con un limite e do sempre la precedenza negli incroci con un diritto di precedenza. Inoltre sto attento quando la strada è pericolosa.